Carol Danvers, bambina prodigio della Via Lattea. Nick Fury, il mio cospiratore bendato preferito. Come va là fuori? Cosa mi sta succedendo? Ha intrecciato i nostri poteri di luce, quindi ci scambiamo di posto quando li usiamo. Oh mio Dio, siamo un team? Tu? Ci penso io. Oh mio Dio! Chi è il bravo micetto? Ciao!